ciao a tutti e bentornati su quinta dimensione letture allora scegli subito distinto una carta tra queste la posizione la carta numero 1 la carta 2 o la carta 3 scegli una di queste tre carte vediamo la situazione amorosa parto subito con la carta 1 lascia andare il bisogno di controllo permette a questa situazione di svolgersi spontaneamente quindi qui si rivolge a chi è magari un po in crisi ti sta dicendo di non fare tante cose lascia stare e procedi fendere le cose come devono andare si deve svolgere tutto spontaneamente quindi non controllare non intervenire non forzare questo è il messaggio della carta 1 che ha scelto la carta 2 conversazioni sincere esprimete onestamente l'una all'altra i vostri sentimenti qua c'è bisogno di più sincerità c'è da parlare chiaro quelle situazioni un po dubbiose o non si sa non si esprimono i sentimenti qui ti dice tranquillamente di farlo quindi puoi dirlo puoi farlo se ami qualcuno se vuoi dirgli i reali sentimenti che provi qua è necessario proprio conversazione sincera qua è richiesto per la carta numero 2 passiamo a chi ha scelto la carta numero 3 nuovo amore una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti molto bene se c'è qualcuno in questo momento che ha conosciuto una persona si sta facendo delle domande sappia che è proprio un grande amore questo un nuovo amore che doveva arrivare in questa tua vita su questa terra una nuova persona appunto che ti ha risvegliato i sentimenti questo è amore ci dice quindi ti risponde se eventualmente avessi tu volevi fare questo tipo di domanda e ti domandavi se poteva essere una storia importante sì perché qui c'è la parola amore lettura 3 grazie mille a tutti quanti vi invito anche sul canale youtube per i video più lunghi e a visitare il sito web ciao a tutti grazie